Figlia, sii pronta alla mia chiamata e felice di fare un piccolo sacrificio per il tuo Signore, poiché Egli ama colui che dà con gioia. Il Signore sempre ti chiederà qualche cosa, ma soprattutto ti chiederà il cuore di cui è geloso. Vuole il tuo cuore e il tuo amore. Ti vuole generosa e disinteressata. La freddezza gli fa ripugnanza, la grettezza l'orattrista. Se non puoi far molto, fa quanto puoi, ma abbi desideri immensi, perché a Dio piacciono gli uomini di grandi desideri. Ogni azione sia da te compiuta per puro atto d'amore, così da rendere la tua vita una lunga catena d'oro da offrire al Padre. Tu metti in ogni minestra un pizzico di sale e guai se non ci fosse. Ebbene, metti in ogni atto, anche insignificante, un pizzico d'amore. Amore di Dio e amor del prossimo, che in ultima analisi diventa ancora amor di Dio. Chi ama non sente la fatica e non avverte il sacrificio. Tutto gli è leggero e bello. Una mamma si sacrifica con tanta gioia per i suoi figli perché li ama. L'amore rende capace di eroismo. Alla base di ogni santità troverai l'amore. Giustamente Sant'Agostino diceva. Ama e fa ciò che vuoi. Se ami Dio non è possibile che l'offenda. La preghiera senza l'amore è come un'arpa senza suono. La sua musica non sale al cielo. La sofferenza senza l'amore assomiglia a quella del bue che tira l'aratro. Soffrire per forza. Soffrire stoicamente è come soffrire inutilmente. Dove metti l'atto d'amore? Trasformi ogni cosa. Vuoi farti santa? Ecco la strada più breve e più sicura. Compi la volontà di Dio con amore. Più sarà grande il tuo amore e più sarà vera la tua santità. Volontà di Dio sono i tuoi doveri quotidiani. Inerenti al tuo stato. Non renderle cose difficili. Dalla mattina alla sera tu vai intrecciando le tue azioni per il bene dei tuoi familiari. Ebbene, legale, queste azioni, con l'amore di Dio. Ecco la santità. Il premio in paradiso sarà proporzionato all'amore avuto in vita. Raccogliere uno spillo da terra può essere più meritorio che costruire una cattedrale. Tutto vale in proporzione all'amore. Il Signore non chiede grandi opere. Quelle le compie Lui, e sceglie gli strumenti più inadatti. Egli chiede l'amore. È un mendicante d'amore. L'amore salva le anime attraverso il mio cuore. Sono io che salvo le anime per mezzo del tuo amore. Ecco perché la tua opera può essere grande. Con la potenza del tuo amore puoi raggiungere tutti i luoghi della terra e aiutarmi a compiere la redenzione.